Sì, allora nel settembre del 1900 ci fu una grossa perturbazione che coinvolse non solo Finale e dintorni, ma fu una perturbazione grande come quella che abbiamo osservato adesso quest'anno in Emilia-Romagna e che prese e coinvolse tutto il Savonese. In modo particolare questa perturbazione fece sì che i due torrenti che sono di perimetro fino al Borgo esondarono. Esondarono portando una grossa quantità d'acqua all'interno di Finale al Borgo stesso. Questo è dovuto al fatto che i due ponti che sono in prossimità delle due porte di accesso a Finale al Borgo si tapparono a causa del materiale che i torrenti trasportarono e quindi si creò un grosso battente e fece sì che all'interno di Finale al Borgo si crearono dei tiranti dell'ordine del metro, un metro e mezzo, due metri. Insomma fu una grande alluvione e che fece parecchi danni. Per limitare i danni alle alluvioni si può agire in due grandi modi. Il primo è attraverso degli interventi strutturali. Interventi strutturali significa ridare spazio ai torrenti, ai fiumi in modo tale che quando piove forte l'acqua possa scorrere al loro interno. Significa in qualche modo ricostruire un nuovo patto tra la comunità e il suo torrente. Poi invece ci sono gli interventi non strutturali che sono quelli come i piani di protezione civile, come quello di mettere le paratoie durante l'allerta, come quello di fare una serie di misure preventive quando viene emessa l'allerta. Sono tutte quelle situazioni per cui non si interviene direttamente sul fiume ma si interviene dal punto di vista della popolazione, dal punto di vista della comunità e ci si mette in sicurezza prima. Beh sì, Finale al Borgo è tutta corparsa di tracce dell'alluvione del 1900. Una di queste, questa qua, come vedete è ben più alta di me e serve appunto a ricordare dove può arrivare l'acqua in caso questa esondi. Queste tracce sono in qualche modo molto importanti perché ci ricordano che anche quando il fiume è in secca come sta adesso, come avete visto adesso, l'acqua in realtà nel giro di poche ore può arrivare anche a questi livelli. Allora anche queste, come vedete, questi più sono delle tracce, delle tracce di vecchia alluvione, questa, vedete, è ben più alta di me e sono i livelli in cui è arrivata l'acqua nelle diverse alluvioni perché comunque non c'è stata solo l'alluvione del 1900, ci sono state le alluvioni precedentemente e ci sono state le alluvioni dopo. E questo anche a dimostrare che i cambiamenti climatici non stanno creando nuovi eventi, stanno facendo sì che gli eventi che prima osservavamo anche nel passato sono diventando più frequenti.